Mister, una pistuese che arriva all'arena Garibaldi e riesce ad ottenere un grandissimo pareggio, un punto preziosissimo, veramente nei minuti finali. Sì, sì, una grossa gara, una grossa gara, è chiaro, noi non ci possiamo paragonare al Pisa, però le ragazze hanno fatto una grossa gara e sicuramente non hanno rubato i pari, come diceva il collega. Sì, sicuramente hanno commentato un Pisa che ha fatto la partita, però noi abbiamo visto una pistuese rinnovata, anche davanti con questi neri sovrioni, Zappa, che ha dato i suoi frutti. Sì, sì, sono molto contento dei ragazzi, uno di 19 e uno di 20 anni davanti, regalavamo 50 anni nei primi 11, senza considerare la presenza dei professionisti, scherzi abbiamo pareggiato per me come aver vinto. Sicuramente un pareggio importante, ora si pensa già a mercoledì c'è l'infrasettimanale contro il Siena. Ma ora pensiamo, godiamoci questa, il Siena ci si pensa da domani, oggi ci si gode questa, o mi sciupi la domenica pensando di Siena. Mi stessi aspettando un Pisa diverso? No, no, il Pisa più o meno potevano fare diversi sistemi, ma più probabile era questo e ci eravamo preparati per questo.